Dottor Salvatore Di Rosa, lei è stato uno dei fondatori di Fadoi. Quali sono le finalità di questa realtà? Questa realtà si può dire che adesso si può coronare di uno dei grandi successi desiderati dai medici internisti italiani, cioè svolgere una riunione dove si parla in maniera indipendente di ricerca, cioè ricerca non condizionata né dalle case farmaceutiche né da finanziatori di vario titolo. Quindi è un vero e proprio momento di riflessione su tutte le attività di ricerca indipendente che ha fatto la Fadoi nel corso degli anni ed è un appuntamento che ormai annualmente si ripete, dove speriamo anche le autorità sanitarie capiscano qual è in realtà anche la possibilità che una società scientifica sia in grado di contribuire alla ricerca veramente indipendente. Quanto è cambiata anche la realtà degli internisti? Sì, la realtà degli internisti è cambiata perché è cambiata anche la maniera di fare medicina, nel senso che la tecnologia adesso si è impadronita di gran parte delle specificità che erano proprie, per esempio, del medico, la semiotica, anche se noi vecchi clinici ricordiamo sempre ai giovani che la semiotica medica è la base per poter fare e completare una diagnosi nella maniera più opportuna possibile. Oltretutto toccare un paziente, sentire, ascoltare le sue parole, anche la sua storia è il motivo per cui cerca un medico e una maniera di fare ancora medicina umana.